Che bello! Sembra una specie di grande stazione centrale dei viaggi dimensionali. Forse i Krang la usano come passaggio tra le varie realtà. Perfetto, il portale è sparito! Siamo intrappolati! Ce ne sono almeno un migliaio. Dobbiamo trovare quello che ci conduce a casa. Wow! Vieni a vedere, Aprile. Incredibile! È davvero bellissimo! Perché non hai ancora visto questo? Oh! Quelli siamo noi! Perché abbiamo quell'aspetto così ridicolo? Quella sarebbe Aprile. Che bella la tuta che indossa! Ehi, guardate! Credo che sia... la dimensione X. Ovvero la patria dei Krang. Questo posto mi manda il cervello in pappa! Sento che c'è qualcosa in arrivo. Oh, no! Come si chiude il portale? Dov'è la maniglia? Dov'è la serratura? State pronti, ragazzi! Biotroid, distruggete! Aprile! Grazie, Donnie. Non ho fatto niente. Leviamoci! Casey Jones, stira! E scegna! Ne arriva un altro! Attenti! Ragazzi, seguiamoli! Il portale! Prendiamogli il telecomando! Ci sta sparando! Scappiamo! Oh, ragazzi, in che dimensione siamo finiti? Gli altri sono intrappolati là dentro. Almeno siamo tornati a New York. Non hanno parlato di darci da mangiare. Io ho fame! No, hanno detto che ci daranno da mangiare. Saremo noi il cibo di... Krata Trogon! Sarebbe... Sinceramente non ho idea di che cosa sia. Possiamo aspettare di essere divorati. O possiamo passare all'azione! Andiamo! Da questa parte! Non mi fermate! Wow! La vecchia metropolitana pneumatica! È stata costruita nel 1800. Nessuno la usa adesso. Cos'è questo rumore disgustoso? È peggio di Mickey quando mangia la pizza. Quelli devono essere i Krata Trogon. I Krata... I Krata... No, aspetta. Vermi spaziali è più facile da pronunciare. Adesso ho capito. Sono loro che causano le scosse. Ma perché... Perché li portano qui? Guardate! Estraggono da loro... Il mutageno. Per la barba di Darwin! Ecco da dove lo ricavano! Non è incredibile! È così affascinante! E disgustoso!